Il progetto è la risposta, dal nostro punto di vista, a una serie di vincoli. Cercare anche di trasformare le regole a cui il progetto spesso deve sottostare è quello che noi chiamiamo un approccio pragmatico e visionario. Credo che la città non è una sommatoria di oggetti, ma è sommatoria di visioni e di racconti. È uno spazio capace di adattarsi funzionalmente senza tradire la propria natura. L'idea che la dimensione comunicativa dell'edificio rimanga chiara ma discreta. Questo è quello che io chiamo atto di responsabilità, di elementi fondativi del progetto che il progetto deve dare perché è una risposta nel tempo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.